ciao amici oggi parliamo di come dimagrire in modo efficace ormai lo sapete per perdere peso è essenziale integrare la dieta con l'attività fisica anche la meditazione mindfulness può aiutare a dimagrire quindi se mi siedo e penso a lungo adesso dimagrisco perdo chili ma certo che no meditare significa avere più consapevolezza non solo quando si sta seduti a occhi chiusi ma anche quando si mangia lo spiego nei miei corsi di meditazione mindfulness trovate le info in descrizione oggi vediamo oltre alla meditazione quattro modi per dimagrire già dal mattino se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 cambiare gli orari posticipare la colazione e anticipare la cena di 90 minuti fa la differenza modificare l'orario di colazione e cena sembra faccia perdere più grassi e questo succede anche continuando a mangiare come al solito lo ha dimostrato uno studio pubblicato sul journal of nutritional sciences i partecipanti hanno perso il doppio del grasso corporeo in sole 10 settimane 2 acqua appena svegli bere acqua subito appena svegli aiuta a bruciare più calorie l'acqua da sola al mattino meglio calda mette in moto le attività metaboliche e mezzo litro di acqua può aumentare il metabolismo del 30 per cento per più di un'ora 3 fare ginnastica prima di colazione fare attività fisica alla mattina e a stomaco vuoto fa bruciare più grassi e aiuta a tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue migliorando la risposta dell'organismo all'insulina 4 non esagerare con i succhi di frutta il fruttosio contenuto nei succhi di frutta è molto concentrato come quantità è un tipo di zucchero che viene elaborato dall'intestino tenue e a digiuno la mattina appena svegli l'intestino appena iniziato a carburare e non metabolizza bene il fruttosio in eccesso quindi meglio evitarlo sarebbe molto meglio un centrifugato o estratto di verdura verde al mattino avete visto amici come è facile dimagrire al mattino seguendo alcuni consigli per vedere tanti altri video sull'alimentazione naturale per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali